60.000 donne convenute nell'urbe da tutte le province d'Italia acclamano al duce fondatore dell'impero. 60.000 donne convenute nell'urbe da tutte le province d'Italia acclamano al duce fondatore dell'impero. 60.000 donne convenute nell'urbe da tutte le province d'Italia acclamano al duce fondatore dell'impero. 60.000 donne fasciste, fasciste universitarie, giovani fasciste, passaglie rurali, salutate nel duce il fondatore dell'impero. 60.000 donne fasciste, questa d'oggi, 20 giugno dell'anno 15 dell'era fascista, è la vostra grande giornata. 60.000 donne italiane fasciste, voi avete dei particolari doveri di compiere. 60.000 donne fasciste, per le opere di domani, che noi ci auguriamo pacifiche, il regime potrà sempre contare su di voi. 60.000 donne fasciste, sulla vostra tenacia, sulla vostra disciplina, sulla vostra fede. 60.000 donne fasciste, allora io vi dico che non saranno più ostacoli nella marcia trionvale del popolo italiano. ビデオ l'experimentazione. 60.000 donne